Salve ragazzi, sono Falcus, l'amministratore di Anime e Manga Eta, una pagina a cui piacciono gli anime, si leggono tanti manga, e in cui ci piace di parlare sia di opere famose, ma soprattutto di opere non famose, e quindi quelle di nicchia. Perché faccio questo video? È un video di risposta a Crua89 per il suo video ormai famosissimo, gli anime sono una bella cosa. Cosa voglio dimostrare oggi con questo spero corto video? Il fatto che Crua89 vada in contraddizione da solo all'interno del video, nonostante ci siano delle cose che possono essere condivisibili. Partiamo dal concetto numero uno. Lui dice che gli appassionati di anime e manga sono dei idealizzatori del Giappone. Niente di più corretto, è vero, molti fan, e non tutti come lui dice e come tratteremo ora fra poco, che è l'altro grande errore, non tutti fan, comunque, molti fan idealizzano il mondo giapponese. Questo perché? Perché vedono attraverso degli anime una cultura che può essere interessante, anche se sappiamo perfettamente che non è così. Ma non è perché dico che Crua89 va in contraddizione da solo. Perché lui a sua volta idealizza i fan con un'unica categoria. Il video, pertanto, non può essere preso sul serio. Lui critica gli idealizzatori del Giappone quando lui idealizza un fan tipo. E come dirò sempre, non si può generalizzare in video del genere. Perché tu, nel frattempo che generalizzi, indichi una grande fascia. Perché non è vero che tutti siamo così. Non è vero. Molti lo sono, ma non tutti. Quindi, quando si va a generalizzare, si cade nel ridicolo e nel banale. E il video, nonostante possa contenere delle grandi verità, che ora vi elencherò e che io penso che siano vere, il video perde di valore e diventa ridicolo. Partiamo dal concetto numero uno. Lui dice che anime e cartoni sono la stessa cosa. È vero, vi elencherò qui sotto un altro dei nostri video, nella nostra pagina, in cui già lo diciamo linguisticamente. Sono la stessa cosa. Altra cosa che lui dice è che il mondo giapponese non è quello che ci sembra. E come dicevo già prima, è vero. Altra lui cosa che dice corretta è che certe volte gli anime sono diventati troppo banali. Preferiscono mostrare tette, culi e non trasmettere alcun valore. Ormai non trasmettono niente, se non fanservice, se non il voler attirare lo spettatore. E questo è una grande piaga che tutti gli appassionati, i veri appassionati, sanno riconoscere e dicono, guarda l'animazione giapponese da un po' di anni a questa parte non è più quella di una volta, o perlomeno non è più quella di in 5-6 anni fa, in cui si potevano ammirare grandissimi lavori. Quindi, dietro quel video che già vi ho detto ricco di contraddizioni e che quindi non potrà mai essere preso seriamente da un appassionato e mai sarà preso seriamente da qualcuno che ama da tantissimo tempo gli anime e i manga, io vi dico che ci sono delle verità nascoste. Non è vero che i giapponesi vogliono far passare una sessualità sbagliata. Non è vero. Sono tanti anime che trasmettono dei buoni valori. Basta pensare a qualsiasi seinen, o comunque a molti seinen, in cui il lato psicologico, il lato tematico, viene esaltato al posto della misera battaglia che ci potrebbe fornire uno shonen. Il suo video è costernato sia di informazioni, sia di ricerca, ma anche di una velata ignoranza in materia che lui stesso ammetta all'inizio e che quindi lui trasmette semplicemente per rabbia di coloro che lo hanno importunato dicendo delle grandi cazzate. Quindi, riassumendo, il video di Croa89 idealizza i fan quando lui critica chi idealizza il Giappone e quindi in questo modo va in contraddizione e non potrà mai essere preso seriamente. Nonostante ciò, dice delle verità che possono essere condivisibili e che comunque molti già sanno. Quindi non è che ha scoperto chissà che cosa. Ha scoperto l'acqua bollita, per intenderci. E poi, una cosa che mi piace sottolineare, mi piacerebbe sottolineare riguardo al video di Croa89 è il fatto che lui abbia un suo format. Quindi il fatto di criticare che lui butta voci, urla, è così, l'ha sempre fatto, ha questo stile. Non vedo perché dovremmo criticarlo. Una cosa che mi dà fastidio è semplicemente che comunque un appassionato non può essere criticato. Ognuno ha le sue passioni e definire un'opera, un'anime, non una forma d'arte è abbastanza religioso. Questo perché non è che siccome l'anime trasmette un'immagine di una cultura non è una forma d'arte. Anzi, certe volte Croa sembra che dica che non possiamo considerare in questo modo perché ci fornisce dei falsi valori. Ma non è vero. Tu quando guardi, osservi un quadro non è che i valori che possono trasmettere siano sempre positivi. Quanti quadri contemporanei per esempio trasmettono la rabbia dell'artista? Quanti l'odio verso il mondo? Non è che siccome passano dei valori o addirittura non ne passano non può essere considerata arte. Anzi, al contrario. Quando qualcosa lascia titubanti le persone proprio quella è arte perché in quel momento ti ha lasciato una sensazione. Quando tu guardi per esempio quella schifo di Sao che tu stesso, Croa, hai commentato uno lo pensa e dice ma perché sto guardando questa cosa? Che cos'è questa? In fondo anche quella è una forma d'arte che poi sia un'arte scadente è un'altra questione ma non siamo lì a criticare quanto un'opera valga a livello poi di emozioni. Comunque, detto questo spero di aver detto tutto. Ho fatto un video in risposta così un po' liberatorio perché comunque il video l'ho trovato abbastanza ridicolo e povero niente di che anche se ci sono delle verità nascoste. Detto questo, ciao!